Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda in direzione Firenze tra Empoli Est e Montelupo e rallentamenti in direzione mare tra Ginestra Fiorentina e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A11 rallentamenti per materiali dispersi in direzione Pisa tra Capannori e Lucca Est. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!